Max Licari, Pianeta Catania, finalmente una grande gioia. Ti faccio questa domanda che è molto semplice. Cosa hai provato quando hai messo dentro quella palla? Perché venivi da un momento molto molto difficile. Questo è un gol storico, questo è un gol che rimarrà nella storia e nella mente di tutti i tifosi del Catania negli anni a venire. Cosa hai provato? Sicuramente è tanta emozione. L'istinto mi ha portato ad esultare sotto i bimbi perché ho sempre creduto nel mio bimbo, nel bimbo Rocco. Attraverso il lavoro e attraverso l'animo che ho. Sono stato sicuramente criticato tanto per le mie prestazioni, magari anche per non aver fatto sotto il profilo realizzativo qualche gol in più. Però questa gioia, questa emozione è difficile poi anche da spiegarla. Rocco, ciao. Sono Filippo Rubulotta per New Sicily. Intanto complimenti per il gol decisivo. Volevo chiederti una cosa che riguarda il fatto che comunque i tifosi sono mancati oggi, a parte comunque la bellissima cornice di bambini. Cosa avresti provato se tu avessi segnato quel gol con tutti i veri tifosi del Catania? Allora, la verità la devo dire. Quel boato l'ho sentito. Da qualche parte c'era. Ok, quindi sicuramente i tifosi ci avrebbero dato una spinta. Noi abbiamo avuto il coraggio e il cuore di riacciuffarla la partita, perché subire il 2-2 non è stato poi così facile. Però penso che è merito di quel qualcosa in più che noi stasera abbiamo messo in campo.